Come prendere uno spicchio d'aglio? Lo spicchio d'aglio, prendere la terracotta di sotto e spalmarla, strofinarla tutta, no? Dopo di che ci metti l'acqua e la lasci lì, si dice, ma non è buona, non è buona, si deve fare buona. No, no, non è che si deve fare buona. In dialetto buonare vuol dire farla inzuppare, va? Inzupparla dai. Inzuppare. Ecco, e poi la prima volta che la usi deve andare con il fuoco un poco lento, possibilmente se si mette una span di fiamma ancora meglio. Potrebbe durare di più, ecco. Questo per fare che? Per cucinare sulla terra. Tetiani. Tetiani. Terracotta, capite? Dal monte Pecorare è tutto. Saluto, fa un saluto. Buona giornata a tutti.